Ma cosa ci sarà mai questo pacco Amazon? Nuova collaborazione con i prodotti Legato. Questi sono due jack con sistema wireless digitale che coprono fino a 40 metri di distanza con un'attività di circa 4-5 ore, si chiamano VS70. Invece qui dentro c'è una tracolla di color red, ora le andiamo ad aprire tutti e due. La fascia l'ho già indossata, ora andiamo a provare i capi. Raga, il primo jack l'ho collegato qui e l'altro l'ho collegato alla pedaliera. Questo è il risultato, un suono veramente pulito, con qualsiasi tipo di suono. Abbiamo un pulito, abbiamo un coro. Ora metto un po' di distorsore. Distorsore. Super consigliato.